Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Per l'intervento di ripristino frana chiusura dell'uscita verso via Quaglierini in direzione Mare. Per lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie per la visione!